Buonasera a tutti e benvenuti a questo sesto appuntamento della quarta tappa del nostro viaggio dei filosofi, la seconda serata che dedichiamo a Nice. Se l'altra volta abbiamo visto la morte di Dio, che significa sostanzialmente la fine di qualunque verità immutabile, la fine di qualunque senso, la fine di qualunque meta, stasera analizzeremo invece il nuovo tipo di uomo che deve nascere dopo la morte di Dio. Cioè è chiaro che l'uomo occidentale schiacciato da due millenni di menzogne millenarie, come dicevamo, non riesce a vivere senza queste illusioni. Potrà sopravvivere solo un nuovo tipo di umanità. Il famoso superuomo di Nice, ma capiremo bene anche qui che è più giusto dire l'oltreuomo, chiariremo cammin facendo, il famoso superuomo di Nice che appunto è la figura che deve nascere, il nuovo tipo di umanità. Ora, l'altra volta ho volutamente tralasciato un'opera giovanile di Nice, che è la nascita della tragedia, dove ci sono due concetti fondamentali della sua filosofia, ma l'ho volutamente tralasciata perché ci permette di partire bene stasera con un piccolo riassunto, perché in quest'opera giovanile di Nice c'è già praticamente tutto il suo pensiero che poi svilupperà. Quindi niente di meglio che trattarla stasera così recuperiamo un po' i concetti che dicevamo l'altra volta. È ancora un Nice che scrive opere filosofiche non più fatte di aforismi, come abbiamo detto l'altra volta, e in questo scritto giovanile, La nascita della tragedia, Nice affronta il problema di come è nata la tragedia greca sostanzialmente. Dice che per comprendere bene il genio dei greci, per richiamare il titolo della nostra prima tappa, bisogna far riferimento a due categorie, a due dimensioni, quella dell'Apollineo e quella del Dionisiaco. Cioè, Apollineo viene dal dio Apollo e che incarna nella Grecia antica la forma, il finito, la ragione e che sostanzialmente era caratterizzato dalla scultura e della poesia epica. però questo spirito appunto della ragione, formale, era ben equilibrato nel capolavoro della tragedia classica greca, era ben equilibrato da un altro spirito che è lo spirito dionisiaco, che scaturisce dalla forza vitale, è caos, è divenire, è lebbrezza, la lebbrezza della danza, del dio Dioniso. E dice Nice, finché queste due dimensioni stavano in equilibrio, il mondo greco ha prodotto la tragedia classica di Sofocle, di Eschilo, la tragedia attica. Solo che poi ha prevalso l'Apollineo, cioè la ragione ha prevalso sulla vita, sul divenire. E abbiamo visto già l'altra volta quanto per Nice questo è drammatico e deleterio per l'uomo, quando la dimensione della ragione cerca di dare un senso alla vita. Questo avviene con Socrate e con la tragedia di Euripide che si rifà a Socrate, dove Nice fa questa sottolineatura, diciamo solo questo, di questa prima opera giovanile, dove il coro, che nella tragedia greca antica, quella dove i due elementi erano ancora in equilibrio, partecipava alla rappresentazione che veniva appunto rappresentata e quindi era tutto un circolo vitale. Con la tragedia invece di Euripide e con lo spirito socratico il coro commenta quello che accade al protagonista e cerca di dare un senso, cioè prevale la dimensione della ragione, con Socrate che era stato definito, abbiamo visto l'altra volta da Nice il dittatore logico, colui che fa prevalere la ragione sulla vita, appunto con questo prevalere dell'Apollineo viene meno il genio dei Greci e comincia la decadenza dell'Occidente. L'Occidente ha creato un rimedio, dicevamo un'altra volta così riprendiamo un po' i temi della filosofia di Nice, l'Occidente sostanzialmente ha fatto prevalere la dimensione della verità, dell'immutabile, del senso, della forma, della ragione sulla vita, credendo che fosse un rimedio. La filosofia nasce di fronte non alla meraviglia, come diceva Aristotele, ma quel termine meraviglia con cui traduciamo il greco zauma, in realtà zauma significa la paura, l'orrore, lo sgomento dell'uomo di fronte al divenire inesorabile e caotico della vita, l'uomo allora elabora una filosofia, elabora una verità, propone rimedio a questa paura che lo attanaglia di fronte al divenire della vita, pone un rimedio ragionando, elaborando verità, però queste pernice, come abbiamo visto bene l'altra volta, sono tutte menzogne che finiscono non per curare la paura dell'uomo, ma per essere peggiori del male che volevano curare, appunto perché tolgono l'uomo dalla vita, non lo fanno vivere, perché togliere l'uomo dal divenire o dare un senso al divenire significa contemplare illusioni e non vivere, cioè staccarsi dal divenire per dare un senso al divenire e contemplare verità, pseudo verità immutabili significa non vivere più. Quindi pernice, ecco la sua grande denuncia, la cura è stata peggiore del male, la cura filosofica, la cura della verità, Platone che fa e inventa il mondo ideale, che dà un senso al mondo reale, oppure il cristianesimo che parla del regno dei cieli, ma anche tutta la cultura moderna, l'illuminismo, il positivismo e il marxismo sono pernice delle menzogne che fanno sì che l'uomo sia tutto proteso verso il raggiungimento di un fine che non arriva mai, di una verità presunta e si dimentica di vivere, ha perso il contatto con la vita. Quindi bisogna ridare l'uomo alla vita e come si fa a riconsegnare l'uomo alla vita? Annunciando la notizia di tutte le notizie, questa era l'altra volta la morte di Dio. Dio è morto, cioè è morta qualunque verità immutabile e l'uomo ora si trova un deserto di fronte a sé, perché Dio è morto, dicevamo l'altra volta, ma Dio resta morto, cioè non ci sono surrogati, non possiamo mettere sulla terra quello che magari il cristianesimo mette nel regno dei cieli, per esempio il marxismo o il positivismo che vede la meta del progresso scientifico. Per Nietzsche con Dio sono morti tutti i sensi possibili, con Dio è morto a qualunque direzione, il nostro è un eterno precipitare, non c'è più destra, sinistra, alto, basso, avanti, dietro, c'è solo il divenire e l'uomo deve essere riconsegnato a questo divenire. Può essere riconsegnato a questo divenire solo appunto, ecco finito il riassunto della puntata precedente, annunciando la morte di Dio e il fatto che Dio non solo è morto, ma Dio resta morto, quindi non ci sono surrogati. È chiaro che di fronte a questa prospettiva deve nascere una nuova umanità, ecco il tema della serata, il famoso superuomo, che anticipo subito un grande studioso di Nice, Gianni Vattimo, grande filosofo italiano vivente, ci ha consigliato di non dire superuomo, ma di dire oltre uomo, innanzitutto perché superuomo dà l'idea di superman, di un uomo forte e non è questo che intende Nice, cioè non è che bisogna potenziare l'uomo, quindi dicendo deve nascere un superuomo più potente, no, bisogna che si vada oltre l'uomo occidentale schiacciato da millenni di menzogne e deve nascere quindi un nuovo tipo di uomo. Ora, questo, l'annuncio del superuomo è essenzialmente dato da Zarathustra, una famosa opera di Nice, così parlò Zarathustra, che segna un altro passaggio decisivo del suo filosofare. Zarathustra o Zoroastro è un profeta persiano vissuto probabilmente tra il 1000 e il 600 a.C., al quale la tradizione attribuisce la fondazione della religione omonima, lo Zoroastrismo. Nice lo prende come profeta che viene ad annunciare il nuovo tipo d'umanità che deve sorgere dopo la notizia della morte di Dio. E quindi stasera dovremo cercare, per completare la filosofia di Nice, dovremo cercare di fare un po' la carta d'identità di questo superuomo. Chi è il superuomo o, come meglio, siamo invitati a fare, a dire oltre uomo? Innanzitutto è un uomo che sopravvive alla notizia della morte di Dio. Ma con quella profondità che Nice evoca con questo linguaggio bellissimo, c'è un uomo che capisce che è morto qualunque senso, è morto a qualunque direzione, è morto a qualunque meta, sia, diciamo, metafisica, il mondo ideale di Platone o il regno dei ceri del cristianesimo, sia anche immanente, cioè non c'è una meta della storia. Dio è morto e Dio resta morto. E nella Gaia Scienza, Nice, perché stasera voglio dare ampio spazio alle sue parole, perché l'abbiamo visto già l'altra volta quanto è importante leggerlo, Nice, più che concettualizzarlo, perché la sua non vuole essere una filosofia sistematica, non vuole dire un'altra verità, quindi va letto, e così parlo Zaratustra, non a caso è un libro per tutti e per nessuno, dice Nice, cioè un libro che lo possono leggere tutti, ma solo pochi riusciranno ad approfondirlo, forse nessuno capirà fino in fondo cosa voleva dire Zaratustra. Però in un passo della Gaia Scienza, Nice afferma, con il suo linguaggio bellissimo, la necessità appunto di non sostituire Dio con altro. Una caratteristica del superuomo, dell'oltreuomo, è di non creare dei fetici, di non cercare alternative a Dio, di non riempire il vuoto lasciato da Dio con qualche altra divinità, a non mettersi ad adorare il vitello d'oro perché Dio non c'è più. Infatti dice, dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna, un'immensa, orribile ombra. Dio è morto, ma stando alla natura degli uomini, ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle quali si additerà la sua ombra, cioè dei surrogati di Dio. E noi, noi dobbiamo vincere anche la sua ombra. Ecco, il superuomo è colui, l'oltreuomo, è colui che vince anche l'ombra di Dio, cioè non pensa che Dio sopravviva in un qualche modo. Ed è interessante andare a vedere altre caratteristiche del superuomo, quindi è colui che sopravvive alla morte di Dio, è colui che sostanzialmente rimane quindi fedele al divenire, fedele alla terra. L'ho già detta l'altra volta, questa espressione sempre di così parlo a Zaratustra, vi scongiuro fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze. Lo sappiano o no, costoro esercitano il beneficio. Cioè, chiunque vi dà speranze ultraterrene, o comunque sia anche speranze terrene, il comunismo che si realizza, la luce dell'intelletto, l'illuminismo, la ragione che illuminerà il reale, la scienza, il positivismo che arriverà alla maturità dell'uomo e finalmente l'uomo organizzerà la società in modo scientifico, come diceva Comte, sono tutte illusioni. La storia non marcia verso nessuna direzione. E sempre in così parlo a Zaratustra, Nietzsche in un passo del libro che è parabolico, usa molte immagini per cui è di difficile interpretazione, a un certo punto dice, tre metamorfosi io vi nomino dello spirito. Lo spirito, come lo spirito diventa cammello, e il cammello leone e infine il leone fanciullo. Cosa ci vuol dire? Ecco, lo spirito umano è stato per millenni cammello. Il cammello dà l'idea proprio di colui che ha le gobbe, che è schiacciato da due gobbe, che sono i due millenni di menzogne. L'uomo per millenni è stato illusoriamente curato dalla paura del divenire, in realtà schiacciato dal peso della verità, della illusoria verità, dal peso dell'immutabile, dal peso della forma. Il leone, però il cammello poi diventa leone quando appunto si accorge, ecco la fierezza del leone, che queste sono menzogne millenarie, l'uomo si libera dai fardelli metafisici ed etici, all'insegna dell'io voglio, e nell'ambito di una libertà ancora negativa, che è la libertà da tutte queste menzogne, ma non ancora la libertà di essere ciò che è, e infine il leone diventa fanciullo, e qui c'è un'immagine dell'oltreuomo che sta nascendo, sta nascendo un fanciullo, sta nascendo un nuovo tipo di uomo. Questa carta di identità che siamo chiamati a fare stasera innanzitutto è questa. Allora, prima caratteristica della carta di identità dell'oltreuomo, come abbiamo detto fino ad ora, sopravvive alla notizia di tutte le notizie, cioè che Dio è morto, e Dio resta morto, e vince anche l'ombra di Dio, non c'è un surrogato di Dio. L'oltreuomo superuomo è colui che è diventato, che ha sconfitto millenni di menzogne, ha accettato che tutto quello che fino ad ora è stato creduto è menzogna, è illusione, è falsità, è veleno, per tornare alla metafora di Socrate. Il dittatore logico Socrate ha bevuto la cicuta tutto contento, è morto sereno, e in realtà Nietzsche appunto ha detto, così come Apollo ha dato un veleno mortale a Dioniso e quindi l'Apollineo, la ragione ha prevalso sulla vita, sul divenire, sull'istinto, così Socrate ha bevuto la cicuta e l'ha fatta bere a tutto l'Occidente, introducendo l'infinità dello sfondo, cioè dando all'uomo l'idea che la vita è ricerca, ricerca che punta verso una meta che non arriva mai e quindi tutto proteso alla ricerca tu non vivi, sostanzialmente, bisogna ridare l'uomo alla vita. Ecco, l'oltreuomo è questa creatura nuova che vive finalmente questa nuova condizione di sapere che non c'è verità, che non c'è Dio, che non c'è direzione, che non c'è meta, ci ripetiamo ma sono concetti fondamentali. Ma l'oltreuomo, e qui arriviamo a un punto cruciale dove dovremmo leggere cose bellissime di Nietzsche, l'oltreuomo è anche colui che fa suo un pensiero abissale, dice Nietzsche. Qual è il pensiero abissale che prende su di sé l'oltreuomo? Il pensiero dell'eterno ritorno, l'eterno ritorno dell'uguale. Che cos'è? L'eterno ritorno dell'uguale è una dottrina che Nietzsche considera fondamentale nella sua filosofia, dice questo è il più abissale dei miei pensieri, chissà se ci sarà qualcuno che riuscirà a venire con me in questo abisso. Cioè, e si dice in due secondi ma poi capirne le conseguenze ci vuole una vita. L'eterno ritorno significa che tutto ciò che vediamo ritorna eternamente. Tutto quello che viviamo, tutto quello che abbiamo vissuto, tutto quello che facciamo è destinato a ripetersi eternamente. Tutto ritornerà. La prima formulazione della dottrina dell'eterno ritorno Nietzsche la fa nella Gaia Scienza, come quella della morte di Dio. La leggiamo un attimo, brevemente, e poi vedremo invece un'immagine ad opera che è efficacissima. Dice Nietzsche, in una pagina, faccio un altro riferimento, in una pagina di Ecce Homo, un'altra sua famosa opera, Nietzsche racconta di essere stato folgorato da questa idea dell'eterno ritorno durante una passeggiata a Sismaria in Alta Gandina, un giorno dell'agosto del 1881. E ne dà la formulazione nella Gaia Scienza dicendo che accadrebbe se un giorno o una notte un demone strusciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, l'eterno ritorno, e tutte nella stessa sequenza e successione, e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami, e così pure questo attimo e io stesso, questo demone che ti parlo così, l'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa granello della polvere. Bellissimo questa metafora, ritorniamo sempre, l'eterna clessidra del tempo viene sempre rigirata e tutto tornerà. Questo era quello che ci potrebbe dire questo demone e Nietzsche riprende. Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immenso in cui questa sarebbe stata la tua risposta? Tu sei un Dio e mai intesi cosa più divina. Se quel pensiero ti prendesse in suo potere e a te quale sei ora farebbe subire una metamorfosi, ecco il nuovo uomo che deve nascere, e forse ti stritolerebbe la domanda per qualsiasi cosa, vuoi tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli volte? Ecco, l'eterno ritorno è questo innanzitutto. Ma che significa? Significa innanzitutto che Nietzsche recupera una visione ciclica del tempo. Ecco, ritorna alla Grecia antica, al circolo, quello che Plotino chiamava il circolo. Le cose vengono da un principio e ritornano a questo principio e tutto ritorna, la visione ciclica del tempo. È chiaro che questo Nietzsche lo fa per combattere la visione lineare del tempo, del cristianesimo, e che il cristianesimo ha consegnato a tutto l'Occidente. Perché abbiamo detto già altre volte che l'illuminismo, il positivismo, il marxismo abbracciano tutte l'idea della storia del cristianesimo, cioè l'idea che la storia sia una linea retta che va verso una direzione. Dalla creazione, la caduta, ci sono delle tappe fondamentali, la redenzione di Cristo e adesso del tempo della Chiesa in attesa della fine della storia che sarà l'Apocalisse quando il Cristo ritornerà sulla Terra. Bene, questa idea, anche coloro che l'hanno combattuta, anche coloro che hanno combattuto il cristianesimo, mai hanno combattuto l'idea della storia del cristianesimo. Perché tutti, Marx, non ha fatto altro che cambiare la meta. Invece di Regno dei Cieli ci ha scritto comunismo realizzato. L'illuminismo ha cambiato, è come una corsa, dobbiamo arrivare a un traguardo. Sul traguardo ognuno ci ha scritto una cosa diversa, ma l'idea che comunque è una corsa verso una meta ce l'hanno avuta tutti. E Nietzsche deve invece scardinare queste menzogne millenarie e scardina innanzitutto l'idea di tempo. La storia non va verso nessuna direzione, verso nessuna meta e recupera questa visione ciclica. Che serve a Nietzsche per dire, signori, solo in una dimensione ciclica del tempo noi diciamo sì alla vita. Perché? Perché ci vuole un uomo nuovo per accettare l'idea che tutto ritorna. Perché? Perché significa che quest'uomo, se accetta questo pensiero, ama la vita non una volta ma infinite volte. Ma ci ha detto prima, nel dolore e nel piacere. Perché per tutti noi sarebbe bello rivivere i momenti belli nella nostra vita. Ah, quanto mi piacerebbe che i vent'anni ce li avessi per sempre. E sì, ma il momento che ti hanno diagnosticato una malattia mortale, il momento che hai visto tuo figlio trucidato in guerra, il momento in cui hai perso un tuo genitore, quel giorno ce la fai a dire sì a quel momento, ma ogni sì che dice è un sì eterno. Ce la fai a dire sì a tutto ciò che ti accade, a volere la vita fino in fondo, per sempre, in tutte le sue manifestazioni? Ecco l'oltreuomo. L'oltreuomo è colui che accetta il divenire, che accetta la vita, in tutto ciò che la vita dà. Ed è qui la differenza fra Nietzsche e Schopenhauer. Voi sapete che Nietzsche, anche con Wagner, Nietzsche inizialmente fu entusiasta del mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, perché abbiamo detto che Schopenhauer sostanzialmente, per quanto si contrapponga ad Hegel, non si contrappone all'idea che il grande panno è morto. La vita è volontà senza senso, tutto ciò che è reale e razionale. L'essenza del mondo è una volontà di vita che procede inesorabilmente, senza senso, senza scopo, senza direzione. Dicevamo che era una volontà cieca e razionale. E quindi il giovane Nietzsche che legge Schopenhauer è entusiasta. E poi rimane deluso da una cosa, che Schopenhauer trovava una cura. Anche lui parlavamo di cura quando affrontavamo il pensiero di Schopenhauer. L'arte, la pietà, ma soprattutto l'ascesi. Cioè sostanzialmente dicevamo che Schopenhauer ci dava un farmaco. Per cosa? Per tagliare i ponti con la vita. Cioè sostanzialmente la filosofia di Schopenhauer è una filosofia che capisce che la vita è senza meta, senza senso, ma poi anche lui propone una cura. E la cura qual è? Bisogna tagliare i ponti con la vita. Dire no alla vita. Dalla voluntas dicevamo. L'ascesi. Il distaccarsi dalla vita. E Nietzsche dice no. La vita va accolta. Non ci sono cure. Perché tutte le volte che pretendiamo di curare l'uomo gli diamo la cicuta. O la cicuta di Socrate, o l'ascesi di Schopenhauer, o l'illusione del regno dei cieli dei cristiani, o il mondo delle idee di Platone per cui il filosofo ti insegna a morire. Ecco, infatti dice, basta di insegnarci a morire, vogliamo vivere. Basta con la filosofia che vuole darci la cura della vita. E che in realtà cura non è, ci fa morire. Basta col marxismo che ci fa sacrificare. Marx dice che l'individuo umano non è altro che un essere genericamente determinato e quindi è immortale. E Nietzsche dice, scusate l'espressione non proprio accademica, ma col cavolo. E perché? O il positivismo. Dobbiamo arrivare, pensiamo al progresso scientifico. Nietzsche, ripeto, con Zaratustra ci dice, vi scongiuro rimanete fedeli alla Terra. E rimanere fedeli alla Terra significa dire un sì incondizionato alla vita, in tutto ciò che la vita ci dà. E questo sì è più forte se noi pensiamo che la vita ritornerà innumerevoli volte e quindi questo tuo sì è un sì eterno. Lo leggiamo però in Nietzsche perché qui veramente abbiamo una metafora bellissima. La formulazione più eloquente e suggestiva della teoria dell'eterno ritorno si trova in Così parlo a Zaratustra nel discorso intitolato La visione e l'enigma, in cui si descrive la visione del più solitario tra gli uomini. Il più solitario tra gli uomini, cioè il filosofo autentico, cioè Nietzsche, che infatti vive solo, impazzisce. Zaratustra narra di una salita su un impervio sentiero di montagna, simbolo del faticoso innalzarsi del pensiero, durante la quale egli con il nano che lo segue giunge di fronte a una porta carraia sulla quale è scritta la parola attimo, il presente, e dinanzi alla quale si uniscono due sentieri che nessuno ha mai percorso sino alla fine, in quanto si perdono nell'eternità. Uno di essi porta all'indietro, il passato, l'altro porta in avanti, il futuro. Zaratustra chiede al nano se le due vie siano destinate a contraddirsi in eterno, oppure se tutto ritorna e quindi non c'è passato e futuro, così come non c'è avanti e dietro, alto e basso. Alla risposta un po' affrettata del nano, che allude alla circolarità del tempo, tutte le cose diritte mentono, tutte le cose diritte mentono. Qui è esplosiva una bomba atomica, tutte le cose diritte mentono, tutte le mete, tutte le... l'illusione che ci sia una direzione, ma questa è una risposta affrettata, come quella degli atei quando veniva detto che Dio era morto e il pazzo dice, vi dico io che significa che Dio è morto? Sentite adesso cosa dice Nice. Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo. Zaratustra dopo aver invitato il suo compagno a non prendere le cose troppo alla leggera, capiamo che significa fino in fondo, espone un abbozzo di teoria dell'eterno ritorno. Non dobbiamo tutti esserci stati un'altra volta? E è interessante perché qui all'improvviso avviene una visione, una visione nella visione. C'è cosa accade? In un desolato paesaggio lunare fatto di orri di macigni, Zaratustra vede, parole di Nice, sentite che potenza narrativa, un giovane pastore rotolarsi, soffocato, convulso, stravolto in viso, cui un greve serpente nero penzolava dalla bocca. Avevo mai visto tanto schifo e livido raccapriccio dipinto su di un volto? Forse, mentre dormiva, il serpente gli era strisciato dentro le fauci e lì si era abbarbicato mordendo. La mia mano tirò con forza il serpente, tirava e tirava in vano, non riusciva a strappare il serpente dalle fauci. Allora un grido mi sfuggì dalla bocca. Mordi, mordi, staccagli il capo. Il pastore poi morse così come gli consigliava il mio grido e morse bene. Lontano da sé sputò la testa del serpente e balzò in piedi. Non più pastore, non più uomo. È diventata un'altra creatura con questo atto di decisione verso l'eterno ritorno, perché il serpente rappresenta un po' il circolo. L'ha vinto questo pensiero che inizialmente ti soffoca a pensare, dovrò dire per sempre sì, a vedere una persona cara sulla cassa da morto. Ma invece quando l'accetto e faccio un atto di forza divento un'altra creatura. Non più pastore, non più uomo, un trasformato, un circonfuso di luce che rideva. Mai prima al mondo aveva riso un uomo come lui rise. È un altro uomo. Ecco, l'oltre uomo. È nato oltre l'umano. Ha fatto suo il pensiero dell'eterno ritorno. Ora, brevissima, vediamo una clip video però che ci dà questa distinzione tra la teoria circolare del tempo e quella invece lineare, questo recupero che Nietzsche dà della circolarità. Quindi un attimo solo questa clip. Tutto va, tutto torna indietro. Eternamente ruota la ruota dell'essere. Tutto muove, tutto torna a fiorire. Eternamente corre l'anno dell'essere. Il centro è dappertutto, ricurvo al sentiero dell'eternità. Con l'eterno ritorno dell'uguale, Nietzsche suggerisce la ripresa di una concezione del tempo, caratteristica del pensiero antico, quella del tempo circolare o ciclico. Nella concezione ciclica il tempo viene rappresentato come ruota. Tutto ciò che avviene si ripete in una circolarità incessante, secondo alcune concezioni in maniera identica, secondo altre in maniera sempre diversa. Nel pensiero greco furono soprattutto gli stoici, a credere nella circolarità del tempo. Ma l'idea dei cicli è presente anche nelle antiche religioni orientali, come il buddismo e l'induismo. In tutte le società tradizionali la ciclicità scandisce l'esistenza collettiva e la ripetizione abolisce il tempo. Nei riti e nelle cerimonie collettive viene ricreato all'infinito un momento originario, mentre il ciclo delle stagioni scandisce l'organizzazione del lavoro e la vita si svolge nel ciclo di nascita, crescita e morte. L'altra concezione classica del tempo è quella lineare, caratteristica della religione ebraico-cristiana e della società occidentale moderna. Secondo questa concezione il tempo è simboleggiato da una freccia che corre inesorabilmente verso il futuro. Dio crea il mondo e il mondo procede senza sosta verso l'apocalisse. Da questa idea del tempo nasce il concetto occidentale di progresso, che ha le sue radici nel mondo cristiano, nell'idea religiosa che la storia umana abbia un senso e una meta. Ma la linearità caratterizza anche il pensiero scientifico moderno, che si basa sulla sequenza di cause ed effetti. L'eterno ritorno dell'uguale è quindi per Nice anche il rifiuto dell'idea di linearità e con essa delle idee di progresso e finalità che hanno segnato il pensiero filosofico cristiano occidentale e dell'avvento della scienza moderna. Bene, ora abbiamo già abbozzato che cos'è questo oltreuomo. Sopravviva l'idea della morte di Dio, fa suo il pensiero più abissale, cioè quello dell'eterno ritorno. Ma non finisce qui. È un uomo che attua una trasvalutazione di tutti i valori. Qui proprio un accenno brevissimo, Nice bisognerebbe dedicargli dieci serate, un accenno brevissimo a questo tema. È chiaro che se tutto quello che è stato creduto fino ad oggi è falso, tutto quello che è stato creduto fino ad oggi è deleterio, tutto quello che è stato creduto fino ad oggi è velenoso, non cura l'uomo ma lo uccide, è chiaro che allora tutti i valori etici, morali, tutto ciò a cui è stato attribuito valore, in realtà è un disvalore. Cioè bisogna attuare una trasvalutazione dei valori, cioè trasformare la valutazione che diamo dei valori. E quindi il superuomo, o oltreuomo, è colui che vede e valuta la vita in altro modo. Cioè è colui che abbraccia i valori vitali e non i valori disumani. È colui che, e questo lo spiega bene in un'opera che è la genealogia della morale, cioè fa vedere, e dice io faccio uno studio morale come finora mai è stato fatto perché vado ad analizzare la psicologia che ha portato a santificare certi valori piuttosto che altri. E quindi ci dice come è nata la morale occidentale. E qui, brevissimamente, in maniera scandalosamente sommaria, dico che sostanzialmente Nietzsche afferma che nel mondo greco, come per l'Apollineo e il Dionisiaco, erano in equilibrio i valori dei guerrieri, quindi i valori della forza, del coraggio, e i valori, diciamo, spirituali dei sacerdoti. Solo che poi, e qui arriviamo al Nietzsche proto-nazista, Nietzsche afferma che soprattutto con la religione ebraica, e quindi poi cristiana, ma soprattutto gli ebrei, i sacerdoti e i loro valori dello spirito hanno prevalso sui guerrieri e i valori del corpo, i valori vitali, per un senso di risentimento, cioè non potendo combattere i guerrieri con forza, perché è chiaro che loro erano potenti, il sacerdote, erano forti, abili, strateghi, invece il sacerdote è debole, dice Nietzsche, hanno fatto questo risentimento che provavano, li hanno combattuti sul terreno dei valori, cioè hanno esaltato i valori contro la vita, contro il corpo, contro la forza. Sono stati gli ebrei, sentite cosa scrive nella genealogia della morale, ha davvero osato, con una terrificante conseguenzialità, stringendolo ben saldo con i denti dell'odio più abissale, l'odio dell'impotenza, il rovesciamento dell'aristocratica equazione di valore, buono, uguale nobile, uguale potente, uguale bello, uguale felice, uguale caro agli dèi, ovvero sia i miserabili soltanto sono i buoni, solo i poveri, gli impotenti, gli umili sono i buoni, i sofferenti, gli indigenti, gli infermi, i deformi sono anche gli unici devoti. Cioè sono stati valorizzati solo i valori antivitali ed elevate a categorie da compatire ma anche da imitare le categorie deboli. E Hitler andava a nozze quando leggeva queste cose, qui non c'è sorella di Nice che regge, perché questo l'ha scritto Nice, perché è chiaro che per Nice l'oltreuomo è aristocratico, non è l'umanità che insieme deve elevarsi, no, è la casta dei più forti, di coloro che amano la vita, la purezza della vita, contro tutti coloro che invece esaltano la non vita. il cristianesimo non ha fatto altro che far sì che l'ebraismo e questi valori ebraici fossero patrimonio dell'umanità. Nice scrive cose molto belle, satanicamente belle, sul fatto che il cristianesimo ha sconfitto Roma. Roma che era la potenza, il guerriero romano, il soldato romano, è distrutto dal cristianesimo che predica valori antivitali e quando la gente comincia a saltare valori antivitali, gli uomini forti crollano. Già la parola cristianesimo è un equivoco, dice Nice. In fondo è assistito un solo cristiano e questi morì sulla croce. Nice odia tutti coloro. Mentre ha simpatia per Cristo, odia i cristiani. Perché? Perché Cristo ha detto il suo sì alla vita, anche quando doveva andare sulla croce. Dice il suo sì, accetta la vita in tutto quello che la vita dà, anche di andare sulla croce. Il problema è quando questa sua visione della vita viene universalizzata e diventa verità da seguire tutti. No. La via della croce è servita a Cristo, ma non possiamo imitarlo. Perché l'imitazione è antivitale. Perché non c'è una verità, c'è solo una prospettiva che ognuno dà alla sua vita. Ultimo tema, in questi ultimi cinque minuti, è la volontà di potenza. E qui arriviamo proprio al cuore. Quindi, carta di identità dell'oltreuomo. Accetta la morte di Dio. Sposa il pensiero dell'eterno ritorno dell'uguale. Attua una trasvalutazione di tutti i valori. È ricolmo di volontà di potenza. Che cos'è la volontà di potenza? È la vita. È quella che Schopenhauer chiamava la volontà di vivere. La potenza della vita. È l'idea che la vita va accolta in tutto quello che la vita ci dà. La volontà di potenza è la capacità dell'uomo di dare lui il senso unico irripetibile alla vita, alla sua vita. Nietzsche dice che non esistono sensi metafisici. Non esistono neanche sensi immanenti. Cioè non è che l'essere ha una verità in sé, dentro di sé, che io scopro. No, non c'è verità. C'è solo il senso che io do alla mia vita. Io interpreto la mia vita. Qui è D'Annunziano. È l'aspetto che più aveva colpito D'Annunzio. Cioè io do il senso alla mia vita, ma il mio senso, la mia prospettiva, ecco perché si parla anche di prospettivismo in Nice, è mia, solo mia. Non può diventare valida per tutti. Ecco perché c'è un solo cristiano e questo è morto sulla croce, Cristo. Perché poi tutti coloro che imitano Cristo, l'imitazione di Cristo, per citare il famoso testo medievale, sono da combattere perché pensano ancora una volta di rendere vera e assoluta una verità che è del singolo. Ecco perché Nice ce l'ha col positivismo anche, che diceva che i fatti, i fatti da studiare, dice Nice la famosa affermazione, non esistono fatti ma solo interpretazioni e ognuno dà la sua interpretazione, unica e ripetibile. La sua prospettiva, ecco il prospettivismo. Ora leggo e chiudo un passo dell'insospettabile filosofo laico Abagnano che parla della volontà di potenza e dominio. E sentite perché dice cose bellissime. La volontà di potenza di cui parla Nice non ha solo le valenze teoriche che abbiamo appena messo in evidenza e che io ho cercato di fare. Anche se tali valenze sono certamente le più decisive sul piano filosofico, essa ne contiene anche altre, ben più crude e storicamente funeste. Qui è inutile come quando io avevo sempre detto che la modernità, l'uomo di oggi vuole salvare capre e cavoli. Cioè sostanzialmente vuole salvare la filosofia di Fichte, la filosofia di Nice, la filosofia di Hegel, ah che belli, ah che belli, ah che belli, però condannare le atrocità del Novecento. Eh ma non si salvano capre e cavoli perché l'una è conseguenziale dell'altra. Ci sono conseguenze morale. Questi pensatori non è che sono innocenti e rimangono sul piano delle idee, poi la muovono la storia. C'è poco da fare. È un po' come ci diceva l'altra volta Maurizio Ferraris che dice tutto quello che non si riesce a sopportare di Nice si attribuisce alla sorella che è una sorta di parafulmine. Ma in realtà no, perché adesso a Bagnano ci riporta proprio testi di Nice inequivocabili da lui scritti, pubblicati da lui a sue spese perché nessuno lo pubblicava. Sono le valenze, queste più storicamente funeste, sono le valenze connesse al concetto della volontà di potenza come sopraffazione e dominio. La vita è essenzialmente appropriazione, offesa, sopraffazione di tutto quanto è estraneo e più debole. Bisogna sopraffare il debole perché è una minaccia per la vita. Quindi sopraffazione e tutto quanto è estraneo e più debole, oppressione, durezza, imposizione di forme proprie. La lotta per l'uguaglianza dei diritti, tutti devono avere gli stessi diritti, sani e malati, forti e deboli. La lotta per l'uguaglianza dei diritti è già un sintomo di malattia perché tratti il sano e il malato allo stesso modo e quindi contamini la razza pura. Dice Abagnano, e chiudo, di fronte a testi inequivocabili di questo tipo, che avevano già impressionato Lukács e che nessun successivo, sentite che bello, e che nessun successivo esorcismo interpretativo, no proviamo a interpretarlo, vediamo perché voleva dire un'altra cosa, nessun successivo esorcismo interpretativo è riuscito a minimizzare o a edulcorare, non si può fare a meno di riconoscere che nel concetto nicciano di volontà di potenza albergano aspetti antidemocratici e anti-egualitari che fanno parte della componente reazionaria del suo pensiero. La filosofia di Nice non a caso recupera Eraclito, che era il filosofo aristocratico per eccellenza, che divideva il mondo tra svegli e dormienti. La filosofia di Nice è la filosofia per spiriti forti, così parlò Zaratustra, un libro per tutti e per nessuno. Purtroppo qualcuno, 30 anni dopo la morte di Nice nel 1933, lo applicherà come abbiamo purtroppo storicamente visto. Grazie dell'attenzione. Dunque, la realtà non ha senso, la vita e la morte non hanno spiegazione, non hanno senso, non si può cercare destinazione né al pensiero né all'azione, non c'è un punto di arrivo né nel mio pensare né nel mio agire. E questo non senso non può essere attenuato, tanto meno risolto, ma neppure attenuato, dall'idea che esista qualche cosa fuori di me che gli possa dare quel senso, quel significato, quello scopo che io non gli posso dare. Nice infatti, l'amico Luigi l'ha precisato bene più volte, Nice infatti non dice che Dio non c'è, non è la semplice affermazione agnostica o anche pure ateistica, Dio non esiste. No, non solo Dio non esiste, non deve esistere neanche nel mio pensiero, che non esista nella realtà è fuori di dubbio. Ma già due secoli di filosofia lui avevano detto questo, un secolo e mezzo. Ma il fatto è che nonostante che già si sia negata l'esistenza di Dio nella realtà, Dio è rimasto o in prima persona o attraverso un suo luogotenente, che può essere un progetto, che può essere un'idealità filosofica, scientifica, politica, o resta lui o resta un suo luogotenente, un suo surrogato, come diceva l'amico Luigi, ma comunque un Dio, potremmo dire con la D maiuscola o con la D minuscola, un Dio c'è, non nella realtà, c'è nel pensiero. Ecco che cosa significa che Dio è morto e che deve restare morto, che deve morire dentro di me. Io sono duro a far morire l'idea, l'illusione, l'idea illusoria, che ci sia qualcosa che possa giustificare il mio bisogno di senso. Il mio bisogno di senso è ingiustificabile. Dunque questa è la posizione di partenza. Non è a caso che l'annunciatore, il profeta di tutto questo sia Zaratustra. Cioè il fantomatico, un po' dai contorni sfumati, personaggio dell'antichità di quasi tremila anni prima, fondatore di una religione che ha queste caratteristiche. Non è che Nietzsche lo sceglie a caso, perché avrebbe potuto scegliere altri personaggi della storia religiosa o anche non religiosa del passato. Ma è curioso che per far nascere un uomo nuovo, utilizzi come profeta retorico, cioè un espediente letterario della sua opera, ma il profeta non è scelto a caso. Un personaggio di quasi tremila anni prima, per far nascere l'uomo nuovo, perché effettivamente è profeta su alcuni aspetti, noi ne diciamo solo due. Lo zoroastrismo, cioè la religione di Zaratustra, è una religione senza Dio. È una religione in cui Dio non ha posto, non ha ruolo, non ci sono domande su Dio, perché non è una religione teologica, è una religione antropologica. Cioè è una via per l'uomo, non è una via dall'uomo a Dio. La seconda caratteristica dello zoroastrismo è che è un satellite del grande sistema manicheo, cioè in cui il bene e il male sono sullo stesso piano e hanno tutte e due una funzione reciproca. Cioè è di fatto la visione dell'equilibrio fra l'Apollineo e il Dionisiaco, tra la ragione e l'istinto, tra il bene e il male, tra la luce e l'oscurità, eccetera. Ma c'è soprattutto un terzo aspetto. Lo zoroastrismo è la religione della forza, in cui la casta sacerdotale è la casta dei guerrieri. È l'unico caso, è diciamo l'opposto, è l'antitesi, della religione biblica ebraico-cristiana. La casta dominante, la casta che custodisce i segreti un po' misterici, un po' esoterici, dello zoroastrismo, i segreti della vita, è una casta sacerdotale guerriera. Questa simbologia evidentemente faceva il caso, si prestava bene allo scopo di Nice, il quale ha la sua tesi da dimostrare. Lo scopo dei nostri incontri è capire e valutare questi duemila anni, duemila e cinquecento anni, scusate, di filosofia. Non siamo qui per fare apologia di qualcosa piuttosto che di qualcos'altro. Però non c'è dubbio che al termine di questo percorso sulla filosofia dell'Ottocento una valutazione chiara si impone. Perché noi siamo al termine di un percorso, quello appunto del secolo XIX, che ci lascia con la morte di Nice alla vigilia della realizzazione sperimentale, nel senso di esperienza e anche di esperimento, delle due grandi correnti della sinistra hegeliana che arrivano, come posso dire, le uniche che essendo dal punto di vista della loro incarnazione culturale, storica e politica arrivano ad essere ciò che le altre correnti non sono mai arrivate ad essere, né della filosofia dell'Ottocento né del percorso precedente, se non qualche sporadica eccezione. Cioè arrivano a concretizzarsi in un sistema. Il marxismo e la filosofia di Nice. Marx e Nice si realizzano. Noi siamo, in questo nostro percorso, con le ultime parole dell'amico Luigi, siamo alla vigilia della realizzazione, dell'inizio della realizzazione di questi due pensieri. Naturalmente Luigi ha concluso molto opportunamente, qualche minuto fa, dicendo i filosofi non sono, non sono chi ha avuto un vero impatto, non sono teorici. Non si può pensare che le loro idee non abbiano poi messo in moto gli uomini, le passioni, le strutture, le hanno messe in moto e come? Da questi due pensatori sono venuti i due grandi sistemi che hanno imperversato, a seconda delle visioni si può, come posso dire, sottolineare più luci, ombre a piacere, ma resta il fatto che la testimonianza su cosa abbia prodotto il marxismo e che cosa abbia prodotto il nazionalsocialismo è ormai nei libri di storia. il ventesimo secolo di cui noi poi vedremo e continueremo a vedere gli sviluppi filosofici, ma è dal punto di vista politico, culturale e anche del sangue, del tributo di sangue, è la realizzazione di questi due sistemi di idee. ora mi permetto certo lo faccio da prete perché sono prete, ma è una valutazione credo che dal punto di vista storico e culturale si imponga che il nostro amico Federico di cui abbiamo parlato fino adesso che pure ha un pensiero poderoso che ha un pensiero lo dicevamo già la volta scorsa è la prima grande novità dopo tanta rimasticatura della stessa idea che in fondo è quella idealistica, illuministica, eccetera, che ha imperversato per due secoli. certamente ha un pensiero poderoso ma prende un abbaglio dal punto di vista storico impressionante. Ecco perché dicevamo la volta scorsa, dicevo io la volta scorsa concludendo il nostro precedente incontro che in fondo anche lui fonda una religione. Vi ricordate che dicevamo critica gli altri perché si inventano un Dio con la minuscola che sostituisca la classe, la scienza, la dea ragione, eccetera, tutti sostituiscono il Dio con la maiuscola con un Dio con la minuscola ma lo fa anche lui perché se non fosse che deve sostenere una tesi e dunque avere una visione ideologica della realtà non potrebbe non rendersi conto dell'abbaglio storico che ha preso. Cioè lui sostiene perché questa è la verità andando alle conseguenze del suo discorso. Lui sostiene che la religione biblica ebraico-cristiana cioè il sistema di idee di gran lunga più influente sull'Occidente e attraverso l'Occidente sul mondo lui sostiene che la religione biblica ebraico-cristiana sia stato un fattore paralizzante della vita ma la religione biblica ebraico-cristiana è quella che ha cosparso l'Europa e poi per contagio il resto del mondo di terreni bonificati di libri salvati di macchinari che hanno dato origine all'artigianato e poi all'industria di scuole di università di ospedali la sua visione e la visione del suo collega in questo Marx hanno riempito l'Europa di gulag di campi di concentramento di purche di devastazione culturale economica politica religiosa umana non si può ripeto non è per fare dell'apologia e non è per per come posso dire per costringere la storia in una determinata direzione ma come si fa a non porre a lui la domanda visti i frutti i frutti che noi vediamo dopo la sua morte ecco se noi ce l'avessimo davanti in questo momento come non porgli questa domanda quale delle due visioni è veramente nemica della vita grazie a tutti grazie a tutti Grazie.